Ah. Ciao a tutti e bentornati su Top Games. Soprattutto ciao a te che magari è la prima volta che ci vedi, ma sappi che ci siamo già seduti a questa tavola. È la tavola delle Master Run. E oggi ti porto all'interno di Dark Souls. E sì, come in Bloodborne, ti insegnerò a fare questo. Prima di iniziare questo lungo viaggio all'interno del mondo di Dark Souls Remastered dove ti insegnerò tutti i trucchi del mestiere per diventare la cosa più pericolosa dell'intero gioco, mi raccomando, seguici anche sui nostri social. È molto importante perché li carichiamo contenuti esclusivi che su YouTube non puoi trovare. In questa Master Run di Dark Souls, oltre a non avere ancora voce, ti insegnerò ad affrontare il gioco nel miglior modo possibile e soprattutto a romperlo nel minor tempo possibile in modo poi successivamente da potertelo godere in tutti i modi che vuoi e con un singolo save riuscire a fare anche tutti i finali senza problemi. Quindi, ora che sei tutto, ti do il mio benvenuto all'Ordran. In tutti i Soulslike, ma soprattutto in quelli di FromSoftware, il viaggio inizia sempre da una scelta molto semplice, chi vogliamo essere. Noi abbiamo optato per il bandito, perché in questo caso è la classe migliore da utilizzare per quello che dobbiamo arrivare a fare e ha uno scudo con sé, quindi possiamo iniziare ad eseguire fin da subito i famosi perri che tanto detesto. Dopodiché avevamo bisogno di un oggetto e abbiamo scelto la chiave universale. Per l'aspetto, ecco, stendiamo un velo pietoso, ma potete farvi esattamente come vi pare. Come avrete intuito, il nostro personaggio è bello dentro. I primi passi sono dettati dal rifugio dei non morti, ovvero il tutorial del gioco e va affrontato come tutti i tutorial, quindi dovrete semplicemente andare dritti e fare quello che il tutorial chiede, cioè non morire e prendere gli oggetti che ci sono per terra. Arrivati al demone del rifugio, però dovete tirare fuori un po' di coraggio e batterlo. È molto importante, perché vi servono in pratica le anime e soprattutto così potete raccontarlo agli amici al bar. Fatto questo, arriverete al santuario del legame del fuoco, il vostro, diciamo, nexus di Dark Souls. Uno dei più belli oltretutto, perché collega tutta l'intera mappa di gioco. E non è una semplice connessione, tu continuerai a passare da questo punto a ogni avanzamento del gioco. Sarà veramente una base, un qualcosa che ti richiama ogni volta. Questa, secondo me, è una cosa molto importante all'interno del gioco di Dark Souls e soprattutto dà veramente un significato a tutta quest'area. Come hai già visto nel video, sono subito corso dal pozzo a prendere l'umanità. Dopodiché ti faccio vedere molto velocemente tutte le anime che devi recuperare qua in giro, perché di base noi utilizziamo le anime che raccogliamo per salire di livello. Non utilizziamo quasi mai i livelli che facciamo durante l'avanzamento. I livelli che utilizziamo per l'avanzamento serviranno più che altro per potenziare le armi e per comprare altri oggetti. In questi forzieri troverai gli ossi del ritorno che sono assolutamente vitali per tutto il gioco e ti renderai conto più avanti di quanto servono. Oltre a tutte le anime che troverete qua in giro per terra, soprattutto nell'area del cimitero, sopra dal corvo e in altre zone, più avanti troverete anche, passando attraverso una finestrella, delle bombe incendiarie che possono servire. Come no, io comunque ti consiglio di averle perché magari ci saranno situazioni che saranno semplicemente leggermente più agevoli grazie alle bombe. Da qua in avanti sappi che la tua avventura ha veramente inizio. A questo punto è arrivata l'ora di scendere le scale alla destra del falò. Troverete una cella al cui interno c'è la guardiana, se non sapete la lore poi magari dopo la discutiamo un attimino, ma il vostro obiettivo è continuare a scendere. Seguite il sentiero senza prendere sostanzialmente deviazione perché non potete e arrivate fino all'ascensore. Questo ascensore sarà quella che vi porterà a Petit Londo. Uscite e seguite il sentiero. Quando sarete sulle scale rotolate di lato per cascare di sotto e prendere un'altra anima. Qua, se non mi ricordo male, non ce ne sono altre, ma in caso ce ne fossero ve le facciamo vedere a video, non vi preoccupate. Continuate seguendo sempre la via di destra. Tenete la destra per raggiungere l'altra torre che è quella che vi condurrà alla fine, alla Valle dei Dragoni. Questa qua è un'area molto importante e molto pericolosa, però sappiate che senza la chiave universale questo cancello non lo potrete aprire. E da questo esatto momento avete la spiegazione chiara e cristallina del perché abbiamo optato per la chiave universale, anche se effettivamente ci sono altri oggetti che ci possono servire. La chiave universale per quello che dobbiamo fare è la cosa più utile. Attraversata la passatoria, come avete visto, andate a sinistra. Anche qua è un percorso obbligato, quindi non potrete sbagliare. C'è un ponte sospeso e alla fine c'è un drago coricato che se toccate le cose sbagliate si anima e vi disintegra. Quindi mi raccomando, toccate soltanto l'oggetto che sta sotto la zampa sinistra, che è un'anima che vi servirà anche questa più avanti. Ora il sentire è abbastanza semplice, cioè vai dritto e schiva le viverne. Se non ci riesci, riparti dal falò e rifai tutto il tragitto. Ma confido in te. Tieni la sinistra e prima che spari la viverna, rotola a destra. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Alla seconda viverna tieni la destra, sali e entra nell'ascensore. Questo ascensore ti porterà nel tuo peggior incubo. E ora ti spiego anche il perché. Ora ti sentirai felice. Sei arrivato ad un altro falò, sei uscito dall'ascensore, sei in un'area tutta nuova, sei pronta ad esplorare. No. Ora devi prendere il tuo salvataggio e metterlo online, metterlo su una pennetta USB, metterlo dove vuoi, ma mettilo al sicuro. in modo che se qualcosa va storto potrai sempre rincominciare da quest'esatto momento. Fidati, è la cosa migliore da fare. Noi ci siamo arrivati dopo un paio di tentativi, che era la cosa migliore. Dal falò dovrai utilizzare le quattro umanità che dovresti avere in questo momento. E ecco, non so quante volte dovrai rifare questo processo, perché tu dovrai droppare un singolo oggetto. E si droppa dalla guardia che c'è al di fuori di questa grotta. Ti deve droppare la sua alabarda. Ogni volta che ti dropperà qualcosa di diverso, tu dovrai uscire, ricaricare il salvataggio e ripartire dal falò. Utilizzare la tua umanità, tutte le tue umanità per aumentare il drop rate e ripartire. Ti renderai subito conto di due cose, che tu non fai danno e lui ne fa un botto. Esattamente. Questo è quel momento in cui realizzi che devi imparare a fare i perri. E questa è la miglior scuola possibile, perché è abbastanza facile da leggere, ma ha diversi moveset. Quindi dovrai essere un po' pronto. Se ti colpisce e non ti uccide, rientra nella grotta, lui non ci può entrare. Quindi sei in area safe, curati e rincomincia. Non ti preoccupare di questo dettaglio. L'importante però è che tu continui a picchiarlo finché non ti droppa la alabarda. Questa sarà l'ultima arma che utilizzerai all'interno di Dark Souls. O meglio, questa sarà l'ultima arma che io ti farò utilizzare all'interno di Dark Souls, perché poi le potrai anche avere tutte. Ma una così, no. Prima di andare via, mi raccomando, passa a sinistra del cavaliere per prendere lo scudo che c'è in terra. Quello scudo ti dà recupero della stamina, ti dà un buff che ti servirà come l'aria all'interno di Dark Souls. Dopodiché passa a destra, sali dalla strada e ti troverai davanti una lucertola che ti donerà due titaniti scintillanti. Ne avrai bisogno di dieci per potenziare l'alabarda e farla diventare la cosa più pericolosa del gioco. Ma occhio, se la perdi, non ti disperare, esci e rientra dal gioco perché in Dark Souls 1 basta questo per far ricomparire le lucertole. Una volta fatto tutto questo, continua a salire perché ti troverai davanti un ascensore che ti riporterà praticamente al Nessus. Non fare l'errore di tornare indietro a piedi e fare tutta la zona alla rovescia, mi raccomando. Torniamo ora alla Valle dei Dragoni. Però, dopo la passatoia, vai a destra perché dovrai entrare nella grotta, schivare tutti i nemici che incontrerai da qua all'eternità e scendere nella città infame. Per arrivare in fondo ti do due trucchetti molto semplici da seguire. Uno, segui le torce. Dove ci sono le torce, ci sono le scale per scendere. Due, cerca il mulino ad acqua perché dove c'è il mulino ad acqua c'è anche l'ascensore perché il mulino con le piattaforme ti fa da ascensore per arrivare alla base di tutta la città. Appena verrai depositato sul fondo da questo bellissimo ascensore ad acqua corri a sinistra come se non ci fosse un domani. Schiva tutto ed entra nelle fogne. Lì c'è la tua ancora di salvezza. Un falò. Questa zona ti metterà a dura prova perché tutti i nemici ti causano status alterati. Quindi ci metterai un pochino per arrivare in fondo e soprattutto non è finita qua. Perché ora dovrai uscire da dove sei entrato e proseguire a sinistra sempre dritto per arrivare finalmente all'albero. Sali fino in cima ci sarà una stanza che apparentemente è vuota ma a sinistra c'è un muro invisibile dopodiché c'è un forziere prendi tutto e rotola nuovamente c'è un altro muro invisibile prosegui segui la strada fino in fondo per arrivare al grande vuoto. Qua è abbastanza superfluo che io ti faccia vedere il video completo ma semplicemente devi saltare da un ramo all'altro per scendere e trovare le lucertole ce ne sono 5 in tutta quest'area più altre sul fondo l'importante è che tu arrivi alla piattaforma giusta se anche la lucertola scappa ti basterà sloggare e rilogare per ritrovartela davanti quindi non disperare ricordati che una l'hai già picchiata prima e hai due titaniti scintillanti quindi ora te ne bastano altre 4 sappi che non sarà la cosa più difficile che farai in questo momento perché una volta che avrai ottenuto tutte le titaniti che ti servono dovrai anche tornare al nexus a piedi sì perché l'umorismo in dark souls è anche in questo il viaggio rapido si sblocca molto più avanti quindi ora tutti i nostri tragitti sono a piedi tutti da un posto all'altro ritornato dopo 96 ore in interrotte di bestemmi al nexus dovrai a questo punto andare a sinistra verso l'acquedotto sinistra e destra ci ho pensato ora è soggettivo in base al punto in cui vi sedete al falò quindi ecco prendetela un po' con le pinze andate verso l'acquedotto è una via obbligatoria non ci sono direzioni che si possono prendere o porte che si possono aprire e arriverai a questo punto al borgo dei non morti più avanti in quest'area troverai un falò che ti servirà da checkpoint perché immagino che questa zona A la utilizzerai un pochino per farmare B potrebbe essere un ancora di salvezza per non rincominciare tutto da capo quindi una volta che avrai salvato la tua posizione esci da dove sei entrato vai a sinistra ed entra in una stanza dove troverai tre mob occhio perché uno ti attacca quasi alle spalle quindi starei attento se fossi in te una volta che li avrai battuti tutti esci e prosegui a sinistra dovrai salire una rampa di scale arrivata ad un piazzaletto continuare a sinistra poi scenderai ci sarà un tizio con la lancia degli altri tizi con la spada passa quelli e arriverai ad una rampa molto ripida di scale lì dovrai prestare la massima attenzione perché c'è un tizio che ti lancia un barile in testa schiva il barile entra nella torre che ha questa bellissima scala a chiocciola sali fino alla nebbia e finalmente sei arrivato alla boss fight che ci serviva la boss fight del demone toro non è tra le più difficili ma è una di quelle che vanno gestite in un modo particolare in pratica entrate nell'arena salite immediatamente sulle scale e battete i due scheletri che vi romperanno le scatole con arco e frecce tornate giù arrivate fino a metà delle mura per far comparire il demone toro a questo punto dovrete farvi inseguire fino alla scaletta voi salire sopra e colpirlo cadendo dall'alto non è difficile ripetete questa cosa due tre volte e avrete battuto il demone per quanto pensiate che questo serva a qualcosa in verità vi serve solo a fare anime perché adesso avete bisogno di un sacco di anime e un po' di pazienza per potenziare la vostra arma a questo punto una piccola parentesi è dovuta per utilizzare l'alabarda a due mani avete bisogno solamente di 22 punti in forza e 10 in destrezza quindi se avete le anime disponibili in eccesso già oppure avete farmato un pochino sappiate che le statistiche da impostare sono quelle dopodiché ovviamente dovrete arrivare ad avere 32 in forza e 18 in destrezza ma non è obbligatorio averle dall'inizio indovina un po' ora devi tornare al nexus quindi buon viaggio perché sarà tutto quanto a piedi però adesso dovrai andare in salita passare a sinistra quando arrivi dalla scaletta dove ci sono tutti i vasi e l'MPC inutile vai a destra e sali con l'ascensore ora sarai alla chiesa dei non morti vai a sinistra prendi immediatamente la scala picchi al cavaliere poi di nuovo a sinistra dritto schiva tutto c'è in fondo una scala salila poi arrampicati sulla prima scaletta arrampicati sulla seconda scaletta e poi arriva davanti alla nebbia qui se sarai in forma umana troverai il simbolo di evocazione di soleir ma noi non lo eravamo entra nella boss fight e combatti i due gargoyle dopo averli sconfitti sali sulla torre e suona la campana qua mi permetto un'altra piccola parentesi pensa giocando online ovviamente a quante volte hai sentito suonare una campana durante il tuo viaggio durante la tua avventura fin qua ecco ogni volta che senti una campana è un altro giocatore in un altro punto del gioco che sta battendo un boss ed è andato a sua volta a suonare una campana quindi immaginati quanta gente sta ancora giocando dark souls 1 dopo così tanti anni una volta che avremo battuto i gargoyle avremo ottenuto le 10.000 anime che ci servono per potenziare la nostra alabarda ovviamente avremo giusto giusto quelle anime lì quindi ci mancheranno quelle effettivamente per livellare per poter utilizzare al meglio il tutto ma oltre a tutto questo ci manca anche un incantesimo molto 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 efficace con questa build quindi andiamo prima di tutto da andre il fabbro e potenziamo la nostra alabarda a più 5 ora prepara il tuo rosario per le bestemmie perché dobbiamo tornare alla città infame ed è un botto distante da qua dalle fogne uscite e andate a sinistra la stessa strada che avete fatto per salire sull'albero ma anziché andare dall'albero salite immediatamente a sinistra dove ci sono le assi di legno da qua la via è abbastanza faticosa più che altro per le alterazioni di status quindi preparatevi ad utilizzare oggetti per togliervi tossicità e veleno oppure tutte le pozze che avete per tenere la vita alta continuate a salire dovrete arrivare fino ad avere sulla destra una grotta con della nebbia arrivati a quel punto dovrete attraversarla salite la scala appena passata la nebbia e continuate ad avanzare mantenendovi a destra continuate a svoltare sempre a destra arriverete ad un certo punto che di fronte a voi ci sarà una zecca gigante dovete battere proprio quella la zecca di per sé non vi dropperà niente però vi lascerà libero accesso ad un oggetto che è lì per terra ovvero la piromanzia forza interiore ed è proprio l'incantesimo di cui avevamo bisogno ora ci manca soltanto una cosa la mano ora malauguratamente se tu avessi deciso di iniziare come piromante il gioco non avresti bisogno di questo passaggio se invece sei stato come noi forviato dalla nostra guida e hai deciso di utilizzare il bandito devi andarti a prendere la mano del piromante e ora ti spiego come si fa torna alla chiesa dei non morti gira immediatamente a destra e vai verso l'ingresso principale scendi le scale e prendi l'oggetto che c'è su di esse è la chiave dei sotterranei torna al borgo dei non morti sali tutte quante le scale fino ad arrivare sul trombatorione dove c'è la viverna che ti spara fuoco schiva il fuoco della viverna fino a raggiungere l'estremità dall'altra parte dove c'è la porta per i sotterranei non fermarti a deridere la viverna altrimenti muori già apri la porta schiva il fuoco e a questo punto scendi fino al borgo inferiore dei non morti dove incontrerai assassini e cani in grosse quantità puoi schivarli tutti e correre ma io ti consiglio comunque di farmare un pochino e di non esagerare perché i cani come in tutti i souls sono problematici è tempo di andare a battere il demone capra che si trova sostanzialmente in fondo alla via dove mi avete visto morire e dove sarete morti anche voi immagino la boss fight è abbastanza semplice quando entrate tenete immediatamente la destra per poi superarlo e buttarvi subito a sinistra sulle scale il demone capra non vi inseguirà ma i cani sì potete liberarvi dei cani e poi fare fuori lui in un attimo e sì hai visto benissimo ci sono voluti due colpi dopo averlo battuto avrai ottenuto anche una chiave esci dalla zona della boss fight vai a sinistra scendi le scale e a questo punto costeggia il muro sulla destra continua dritto apri la porta con la chiave che ti ha donato il demone capra e a questo punto inizia la tua discesa nelle profondità devi continuare a scendere finché non arrivi ad una zona allagata uccidi tutti i mob nell'area allagata perché dovrai arrivare fino dall'altro lato e utilizzare una parte di muro caduto come scala per salire gira immediatamente a sinistra prosegui dritto e arriverai ad una stanza piena di barili mi raccomando non attaccarli rotola fino a romperli tutti in uno di questi ci troverai il piromante parlaci finché lui non ti dirà tutto quello che ha da dirti e a questo punto dovrai tornare al nexus perché lo ritroverai lì nella conversazione ricorda di rispondere no in questo modo ti darà la fiamma della piromanzia e hai praticamente fatto tutto ora devi solo salire di livello in modo da poter equipaggiare tutto e il nostro viaggio all'interno di dark souls a questo punto finisce qua perché tu ormai sei in grado di fare anche questo ovvero di entrare nella boss fight di kellag schivare un paio di attacchi per capire un po' il suo moveset per poi renderti conto di essere assolutamente superiore a lei e poterla battere in cinque colpi che dire ormai le nostre master run si concludono così con me che finisco per avere sempre meno voce e voi che dovreste finire per avere sempre più voglia di giocare i souls like mi raccomando continuate a seguirci anche sui nostri social perché carichiamoli contenuti esclusivi che invece su youtube non postiamo fatemi sapere qua sotto come avete trovato questa ennesima master run e quale sarebbe la prossima che vorreste vedere noi ci vediamo in un prossimo video sempre qua su top games e ciao a tutti quelli che vedi scorrere qua alla fine sono tutte le persone che hanno deciso di supportare il canale e sopportare noi con l'abbonamento tu puoi abbonarti ogni mese al nostro canale e avrai accesso ai nostri video anticipatamente quindi li vedi prima degli altri pensa a te e oltre a tutto questo dobbiamo ringraziare anche eric per i super grazie e edoardo per la donazione per i poll grazie a tutti